Un benvenuto sul canale. Gianni Amman nel 2021 ha annunciato la sua nuova produzione internazionale, a cui avrebbe partecipato, Sandokan. Da un'idea del produttore Luca Bernabei, ispirata ai popolari undici romanzi d'avventura dello scrittore italiano Emilio Salgari. La storia avvincente di Sandokan è la storia di quel leggendario pirata ottocentesco e della sua banda, le tigri di Bonpracen, che combattono contro il potere coloniale di olandesi e inglesi, che sono imperi che hanno occupato il sud-est asiatico. Nella serie la nostra star di successo, Gianni Amman, interpreterà un po' di meno che Sandokan e Luca Argentero è il suo fedele amico e pirata, Janeth, scritta da Alessandro Sermoneta e Davide Lantieri. La produzione sarà un'interpretazione fresca, ma moderna, del modo di Salgari, con una forte prospettiva femminile da eroi coraggiosi come la di Marianna. Il cui cast, però, non è ancora stato annunciato. L'enorme produzione da 50 milioni di euro attualmente è in fase di sviluppo. Doveva iniziare le riprese principali nel 2021, di cui vi abbiamo già parlato in tutti i precedenti video che vi ho lasciato sul canale. Tuttavia, come sapete tutti, non è potuto succedere questo, perché sono state rinviate per via del Covid, della proibizione a spostarsi ed altre difficoltà che si sono venute a creare. E l'anno è spostata in data da destinarsi verso il 2024. La prima stagione, che sarà prodotta da Luca Bernabei, è al potenziale per essere l'inizio di un formato ricorrente, sembra che verrà fatta a puntate, e sarà composta da otto episodi. Ora ti do una piccola informazione per farti sentire più a tuo agio. Ti ho appena detto che le riprese di Sandokan nel 2024 molto probabilmente inizieranno, ma sembra che forse inizieranno anche alla fine del 2023, quindi le anticiperanno. Ma sfortunatamente il nostro seducente attore, Jeanne Yaman, sarà visto nel ruolo principale di Sandokan verso la fine del 2024, quindi lui arriverà dopo. Come sapete, l'attore di successo sta lavorando ancora sul set di El Turco e come da contratto, tra qualche mese dovrebbe finire le riprese. Ma subito dopo El Turco, Jeanne Yaman girerà la seconda stagione di Viola come il mare e la serie sarà sugli schermi di Canale 5 nell'autunno del 2023. Ma la sapete la curiosità? In Turchia non c'è ancora stato nessun produttore che ha fatto un tentativo di acquistare la serie per trasmetterla sulla televisione turca. La cosa sembra strana, visto il successo che ha ottenuto. Le notizie per oggi sono terminate, ma iscriviti al canale perché stanno continuando ad arrivare nuove news.